Una task force interna per la budgetizzazione settimanale delle risorse disponibili per ogni settore del comune di Andria, combattere la piaga dei mancati pagamenti delle tasse locali. Parla anche delle azioni che dovranno essere messe in campo per il prossimo futuro il sindaco di Andria, Nicola Giorgino, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa per illustrare i principali contenuti del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione, approvati nei giorni scorsi dal Consiglio Comunale. Il bilancio con i nuovi sistemi contabili sarà oggetto di un continuo monitoraggio perché noi abbiamo la necessità di budgetizzare la spesa e le entrate in modo tale che a fine anno abbiamo delle entrate superiori alla spesa e quindi avere un pareggio di bilancio con un avanzo di cassa che nel caso di specie del comune di Andria ci deve servire anche per ridurre l'anticipazione di tesoreria. Sulla riscossione delle tasse si esclude il ricorso ad Equitalia. Equitalia purtroppo è un ente riscossore molto antipatico, ha in viso i cittadini, ma tra l'altro è molto elefantiaco e non ti dà quella certezza di recupero nell'immediato di cui invece i comuni oggi hanno bisogno perché i trasferimenti dello Stato sono sempre più ridotti e non avvengono più in quelle entità con cui venivano prima. È evidente che il comune e l'amministrazione sta facendo una seria riflessione sia per adeguare le dotazioni strumentali e finanziarie dei servizi e dei settori che si occupano della riscossione, sia per eventualmente effettuare una gara di evidenza pubblica per la riscossione esterna in modo tale da verificare se c'è possibilità di aumentare quel gettito di entrata che oggi è fondamentale. Infine, Giorgino ribatte ad alcune notizie diffuse dalle opposizioni. Invito tutti coloro che invece danno false notizie sulla stampa a essere più prudenti. Io non sono solito replicare, ma ho letto purtroppo nell'ultimo mese una serie di fandonie che necessitavano comunque di una puntualizzazione. Quando leggo che la sostituzione di una nota integrativa al bilancio di previsione in cui erano stati erroneamente indicati dei numeri, capita perché nella mole di allegati ed è stata correttamente sostituita dall'ufficio finanziario col parere dei revisori, viene interpretato come una modifica degli equilibri di bilancio, io credo che non sia onesto da un punto di vista intellettuale scrivere queste cose perché significa soltanto creare una inutile confusione di cui i cittadini non hanno bisogno. Il nostro bilancio è un bilancio che invece proprio alla luce dei nuovi principi contabili si appresta a dare la possibilità di continuare a consentire ai cittadini di avere quei servizi che hanno sempre avuto, non prevede aumento di tasse perché ci sono pure dei ciarlatani che vanno dicendo in giro che ci sono degli aumenti delle tasse.